Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz. Oggi con me c'è Cristian Buajar che è il nostro investment advisor. Il titolo del webinar è come scegliere i migliori fondi ed ETF. Sarà un webinar veramente interessante e sono convinto che vi piacerà tantissimo come è piaciuta a me la versione in inglese che ho seguito la settimana scorsa. Allora io passo subito la parola a Cristian, gli passo anche lo schermo in modo tale che possiamo cominciare perché il tempo è prezioso visto che le informazioni sono tantissime. Ok grazie Enrico e buonasera a tutti. Prima di tutto prima cosa volevo dire ovviamente chiedere scusa se il mio italiano non è così perfetto per ovviamente fare del mio meglio. Poi Enrico devo dire anche che sono molto contento perché oggi abbiamo tanti iscritti per questo webinar. Allora sarebbe ovviamente molto molto interessante. Allora come hai detto tu partiamo subito. Un secondo se che lancio la presentazione. Ok. Allora prima faccio un po' il sommario cosa diremo oggi. Parliamo ovviamente di differenze generali tra ETF e fondi gestiti, l'importanza della diversificazione, i differenti tipi di fondi comuni, poi ovviamente parleremo in dettaglio come scegliere i migliori fondi, parleremo dell'ETF, come scegliere i migliori l'ETF e poi ovviamente daremo degli esempi pratici per strategie differenti ovviamente mentre precediamo. Allora la prima cosa che volevo fare in questo webinar è di praticamente parlare della differenza generale da questi due. Allora per chi iniziare ovviamente c'è la modalità di gestione. Questo ovviamente è molto comune, forse tanti di voi la conosco, però volevo approfittare di questo momento. Allora per i fondi ovviamente c'è la gestione attiva. Basicamente c'è il manager che gestisce il fondo in base al suo mandato. Per esempio in fondo che contiene azioni statunitense, allora il manager deciderà lui quale azione comprare. Per esempio oggi io scelgo Netflix e poi domani per esempio vendo Coca-Cola e così via. Allora c'è questa gestione attiva tutti i giorni e così via. Per l'ETF ovviamente la gestione è passiva. Perché? Perché l'amministratore si traccia solamente un indice. Per esempio se vogliamo parlare delle azioni statunitense il manager traccerà l'indice del S&P 500. Una cosa importante per i fondi gestiti è la protezione che questo daranno del portafoglio durante i periodi di stress. Che significa? Basicamente se il mercato entra per esempio in una fase ribassista o per esempio il manager crede che scenderà fra un po', il manager può essere proattivo e proteggere il portafoglio. Per esempio lui può incrementare la liquidità e ovviamente diminuire la posizione in azioni in quel fondo particolare. Anche dopo vedremo qualche esempio di questo. Ovviamente può anche reagire rapidamente per approfittare dei movimenti quando il mercato è in rialzo. Per esempio userà la liquidità per investire molto più velocemente. Un'altra cosa sui fondi gestiti è perché questi possono essere costruiti per indirizzare risultati specifici. Per esempio un fondo che deve distribuire un reddito, un dividendo, così via, di 5% all'anno per esempio. Per l'ETF ovviamente tu puoi, un vantaggio che puoi avere un'esposizione rapida a qualsiasi area di mercato. Per esempio se la mia macro view è pro Europa, pro Stati Uniti eccetera, con un semplice ETF posso incrementare la mia posizione molto rapidamente. La prossima sezione riguarda i costi. Adesso io so che questi sono molto importanti per tutti. È una cosa che è la più importante di differenza tra i due. Per esempio ovviamente i fondi gestiti perché c'è il manager che fa questo lavoro, ovviamente ci sono i costi che sono più alti. Normalmente la gestione annuale è circa l'uno, ma da qualche parte anche va oltre il 2,5%. Poi c'è ovviamente anche la commissione iniziale e anche la spesa d'uscita. Adesso questi generalmente sono scontati dai broker o dalle banche, ma ovviamente è importante che un investore che vuole investire in questi analizza esattamente i costi perché anche lo stesso fondo possa avere una commissione di differenze tra un broker e l'altro. Perché ovviamente ci sono degli sconti differenti tra i broker differenti. I fondi anche possono avere la commissione sul performance. Per esempio se il fondo sta andando molto bene, in qualche volta può essere questa commissione anche questa. Però questa non è così comune. Per l'ETF, come abbiamo detto, i costi sono più bassi. Per esempio la gestione annuale, da questo punto normalmente la media è da 0,1% fino al 0,7%. Allora molto più bassa, come sto vedendo qui dal grafico. Ovviamente c'è anche la spread. Quando tu compri un ETF, comprare un ETF come un'azione. Allora ovviamente il bid-ask, la differenza tra comprare e la vendita, può essere ampio a causa della scarsa liquidità. Allora ovviamente è sempre importante che tu consideri queste cose. Poi ovviamente ci sono le commissioni del broker. Anche in questo momento, in questa cosa, uno deve analizzare un broker dall'altro. Perché come detto prima, comprare un ETF è come comprare un'azione. La prossima cosa che volevo spiegare è una liquidità anche sul prezzo. Per esempio i fondi sono scambiati quotidianamente, normalmente, e il solo prezzo è calcolato a fine giornata. Se vogliamo liquidare l'ETF, scusate, se vogliamo liquidare il fondo, normalmente il processo per ricevere la tua liquidità può variare. Per esempio io metto l'ordine per liquidare il mio fondo oggi e poi riceverò la liquidità domani oppure tra due giornate. Dipende dal fondo. L'ETF, come detto prima, è come l'azione. Allora sono scambiati in borsa, in tra dei, i prezzi sono in tempo reale e si liquidano instantaneamente. Allora io metto l'ordine oggi e se lo faccio sul mercato posso ricevere tutti i miei intro IT proprio oggi. Allora è più conveniente, è più rapido, ok? In quel punto lì. L'investimento minimo. Questa anche è una cosa importante. Per i fondi dipende dalle classi delle azioni. Che significa? Per esempio ci sono fondi più comuni agli investitori che il minimo di entrata per apprezzare, per entrare in quel fondo devi almeno investire mille euro, per esempio. E per questo minimo può essere di più. Dipende dalla classe del fondo, della classe di azioni. Posso essere anche 100.000, ma questi normalmente sono più per istituzioni, banche, eccetera. Per un ETF è molto più semplice. Basicamente tu compri un'azione, se l'azione, il prezzo di azione è di 100 euro, per un'azione di ETF tu devi dare 100 euro. E vice via così. Anche come detto prima, è come comprare un'azione. È molto semplice. La prossima cosa che volevo parlare è degli ordini. Quando fai un ordine. Per i fondi gestiti, in questo caso è semplice, perché tu metti l'ordine, per esempio hai 10.000, li investi in un lotto a mercato. Li metti oggi e poi ovviamente li ha messo nel mercato, soltanto con quel valore. Per l'ETF tu puoi impostare degli ordini limiti anche agli stop loss, esattamente come le azioni. I dati. I dati in questo caso non stiamo parlando dei prezzi, perché l'abbiamo spiegato prima i prezzi. Qui stiamo parlando dei dati disponibili, il reporting, per esempio gli aggiornamenti interno del fondo. Per esempio i fondi gestiti. Normalmente questi dati, per esempio abbiamo nel fondo 5% su Apple, 3% su Pepsi, eccetera. Questi sono distribuiti normalmente ogni mese. Nell'ETF, perché sono più rapidi, questi dati normalmente sono apportati ogni giorno, sono giorni a giorni a ogni edito. Un'altra cosa importante riguardo la performance. Ovviamente, come tutti ovviamente possono sapere, è molto difficile per il fondo gestito di fare meglio dell'indice o l'ETF. Prima di tutto, perché per i costi, per il problema. Però può succedere. Adesso questo webinar, anche dopo, vediamo e più avanti che questo può succedere. Non sarà così facile, però può succedere. Poi lo vedremo. Un'altra cosa importante da dire è la diversificazione. Allora, entrambi offrono una sorta di diversificazione. Un fondo può offrire un'efficiente diversificazione del portafoglio. Per esempio, tu puoi avere soltanto un fondo nel tuo portafoglio che è diversificato abbastanza, scusate, come avere un portafoglio di azioni e obbligazioni. Hai soltanto un fondo e, per esempio, hai misto 50% azioni, 50% obbligazioni in tutto il mondo. In ETF, questo è un po' più limitato, perché tu hai diversificazione nel holding, per esempio, un ETF con 25 azioni, però è più limitato in quell'area di esposizione. La prossima cosa che volevo parlare è riguardo l'importanza della diversificazione, le emozioni e il market timing. Basicamente, la cosa importante è qui, in questa cosa qui, ovviamente, prima di tutto, qui stiamo parlando di investimenti a lungo termine, non stiamo parlando di trading, ok? La cosa più importante qui è di trascorrere tempo nel mercato e non cercando di prevederlo. Perché ovviamente dico questo? Io dico questo perché, come sappiamo, i mercati finanziari fluttano nel tempo, quindi un investore potrebbe essere tentato di comprare o di vendere continuamente per inseguire i guadagni a breve termine. Ovviamente, sebbene questo possa essere profittevole, tale strategia raramente aiuta a raggiungere obiettivi a lungo termine. Per esempio, se io voglio avere un portafoglio per pianificare la mia pensione, per esempio, o questo è una cosa, pianare per 20-30 anni. Questo è differente, ok? La terza cosa che volevo parlare qui, su questo grafico, è che, come si vede all'immagine, gli investitori normalmente, ok? Faccio anche questo per evidenziare, danno origine a una varietà di emozioni, ok? Di come sta andando il mercato. Per esempio, se il mercato sale, come vediamo qui, per esempio, ok? Siamo tutti euforici, siamo eccitati, eccetera. Allora compriamo di più, pensiamo che siamo i più forti, i più fichi trader, così dire. E allora, ovviamente, compriamo più cose, ma ovviamente lì abbiamo più rischio, ok? Perché stiamo facendo così. Ci sono queste emozioni che sforzatamente possono influenzare le nostre decisioni. Dall'altro canto, se il mercato sta scendendo, ok? Ovviamente siamo più depressi, ci si asserà del panico, e così via. E a questo punto abbiamo paura. Allora, allora non compriamo. Ma qui ovviamente sarà la posizione più opportuna esattamente di comprare. Ok? Allora, a questo punto è veramente importante, cosa volevo dire, di avere un portafoglio diversificato e non ovviamente non dare retta alle emozioni per queste cose che accadono, perché tu hai una strategia a lungo termine. La prossima slide qui che volevo parlare è riguardante quando tu manchi un giorno migliore dell'investimento, il market timing. Cosa significa? Per esempio, in questo grafico qui abbiamo un investimento ipotetico di 10.000 dollari americani nell'esempio 500 per 36 anni. Ok? Mi direte un lungo termine, ma qui stiamo parlando di lungo termine. Però volevo approfittare per spiegare una cosa. Per esempio, come vediamo qui dal grafico verde, ok? Se avevamo un vestito per 36 anni, ok? e avevamo lasciato tutto un vestito, il nostro profitto sarebbe oltre i 500.000. Vediamo il grafico verde qui, ok? Abbiamo, così dire, cavalcato l'onda della volatilità, ok? Se dell'altra parte, durante questi 36 anni, ok? 36 anni, abbiamo per qualche ragione o l'altra, forse per paura, per esempio, lasciato al mercato per soltanto 5 giorni, ok? Che sono pochissimi in 36 anni, ok? Avevamo raccolto soltanto, così dire, 300.000. Basicamente, approssimativo, per dire così, circa 2.000 in meno. Questi sono ovviamente tantissimi in questo contesto. Ricordate che siamo partiti con 10.000. Allora, ovviamente, in questo contesto sono tanti. Immaginate che in 36 anni abbiamo lasciato il mercato per soltanto 50 giorni, che sono un pochino di più, però sono ancora pochi in un ambito di 36 anni, ok? Il nostro valore sarebbe soltanto incrementato di 30.000 circa. Basicamente, abbiamo fatto oltre il 480.000 in meno. Basicamente, questo grafico qui ci dice che ancora una volta l'importanza della diversificazione è l'importante di rimanere investiti quando si parla di lungo termine irrispettivamente se c'è un paio di mesi che sta andando male. Adesso vediamo anche lo prossimo grafico che è molto, molto importante. In questo caso qui vediamo questa tabella, vediamo la performance di tutti gli investimenti azionari e ablocuzionari in tutto il mondo dal 2007 come vediamo qui fino all'anno scorso 2017. Per esempio, se prendiamo questa qui i mercati emergenti nel 2007 questi hanno fatto circa il 34% una performance molto importante. Se guardiamo un anno dopo nel 2008 quando c'era la crisi bla 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 vediamo a vedere qui che la performance dei mercati emergenti era la più pessima in tutto il mondo. Questi hanno perso il 36% tutto il performance che hai fatto un anno prima l'hai persa. Ovviamente in quell'anno la più asset class così e la migliore erano le obbligazioni governativi. In quel periodo ovviamente c'era tanto panico tanta paura eccetera però se avevamo paura è avventuto tutto nel 2008 ok abbiamo ovviamente perso il guadagno il prossimo anno per esempio il 2009 ok i mercati emergenti hanno fatto il 60% l'anno dopo il 23% eccetera eccetera ok a parte questo come possiamo vedere in questo grafico che è molto bello interessante penso possiamo vedere che ogni classe di investimento genera rendimenti diversi tutti gli anni e quindi ovviamente ancora qui stress perché questa cosa è molto importante è veramente importante che abbiamo un portafoglio diversificato per ottenere sempre il meglio di chiasconde questa cosa i cosiddetti asset class adesso l'ultima cosa che volevo parlare in questa situazione della diversificazione prima di entrare di approfondire sul fondo di l'etf è la correlazione cosa è la correlazione la correlazione è basicamente una relazione di investimento con un investimento con l'altro allora adesso spiego questa è una matrix è una tabella che qui vediamo la correlazione tra le azioni di paesi sviluppati Europa nel Regno Unito Giappone e America e quelle con quella delle obbligazioni governativi per esempio come possiamo vedere qui con i cerchi blu c'è una forte correlazione per esempio tra i mercati europei azionari e quelli americani o tra i mercati europei e quelli del Regno Unito ovviamente un po' meno per quelli del Giappone per esempio se le azioni europee incrementano un anno del 10% io aspetto che le azioni americani incrementano anche loro però un po' meno qui la statistica degli ultimi 16 anni ci dice che incrementeranno del 16% allora qui c'è una correlazione positiva da questi asset class ok poi che succede se il mercato scende ovviamente sarà il contrario l'importante in questa bella qui però è questa qui l'ultima cosa sulle obbligazioni per esempio in questo caso qui c'è una correlazione negativa per esempio se io prendo un confrontiamo le obbligazioni europee con le azioni europee se le azioni europee scendono io aspetto che le obbligazioni europee incrementano ok da quel percentuale ecco ovviamente qui qui c'è una correlazione negativa allora è così importante avere un portafoglio diversificato anche in questo caso qui perché quando i mercati scendono normalmente le obbligazioni vanno di moda vanno meglio e contrario quando i mercati emozionali vanno su allora ovviamente tu perché stai investendo per lungo termine vuoi avere il portafoglio coperto e rispettivamente cosa sta facendo il mercato adesso parliamo ovviamente di più dettagli sui fondi comuni di tipi diversi ecco Christian tra l'altro è interessantissimo e spero che piaccia tanto secondo me il tema vero che ha introdotto Christian che cos'è è il fatto che una volta si pensava che si dovesse diversificare all'interno di titoli dello stesso paese oggi una diversificazione fatta bene è in valuta in azioni obbligazioni materie prime e tutto il resto che è quello che ci hai fatto vedere molto bene in quella tabella con tutti i colori dove si vede esattivamente che ci sono dei mercati più volatili come i mercati emergenti che a volte sono i migliori a volte sono i peggiori e anche le obbligazioni in fasi molto negative mi ha stupito quel dato del 14% delle obbligazioni inglesi molto positivo appunto durante la grande crisi quindi 12% quindi insomma molto molto interessante come vedete anche gli Stati Uniti North American Equities 2013-2014 molto molto bene poi pian pianino stanno iniziando ad essere un po' più fragiline e l'ultimo anno sono state sì hai detto bene per esempio qui erano 30-17 poi 2015 c'era la crisi piccolina 4.5% poi fortissima 2016 2017 10% quest'anno sono basicamente flat questo punto allora sarà ovviamente interessante vedere la tabella quando si finirà l'anno poi faremo ovviamente anche sul sito poi sarà esatto secondo me molto bello ma secondo me questa immagine che tu ci mostri è molto emblematica perché ci permette di capire che un investitore voluto che vuole investire in maniera intelligente deve essere oggi esposto su tutto perché come vedete bene o male tutti i da properties ho visto Sterling Corporate Bonds eccetera eccetera ottengono spesso diciamo risultati che sono antarenanti quindi assolutamente quello che hai fatto vedere è molto interessante a supporto di quello che dicevi prima ti rubo solo un secondo ho visto che hai fatto vedere la slide precedente quella che diceva che dove si perdono determinati giorni particolarmente positivi in borsa si perde gran parte del profitto nel corso che abbiamo fatto sul trading system sulla federal reserve nel paper della Fed di New York si dice che effettivamente l'SP500 ottiene il 75% delle sue performance positive negli ultimi 30 anni proprio in quei giorni a cavallo delle riunioni della Fed e quindi sostanzialmente loro fanno vedere che essere investiti questo lo dice la Fed di New York all'interno di quei giorni di fatto ti dà modo di avere gran parte della performance allo stesso modo è evidente che se tu lasci eviti di investire nei 30 migliori giorni o dei 50 migliori giorni all'interno dell'anno è normale che la tua performance si educa molto quindi non bisogna avere paura secondo me di restare investiti perché come hai fatto vedere tu ogni anno torna sulla quella con i disegni che facciamo con i colori che la facciamo vedere ogni anno c'è stato almeno un mercato che ha performato intorno al 20% vedi che ogni anno c'è stato un mercato che ha performato molto bene e questo succede sempre l'importante è essere bravi abbastanza ad individuarlo o ad essere sempre investiti mi taccio però volevo dare qualche indicazione spero che piaccia insomma questo webinar che hai detto grazie tante per l'intervento e adesso continuiamo allora dove eravamo rimasti sì qui allora adesso spiegherò un po' più sui fondi comuni di investimento qui ovviamente come forse sappiamo ogni fondo ha un mandato scritto sul prospetto che fornisce la mia guida di ciò che un gestore di fondi può o non può fare in quel particolare veicolo allora cosa devo dire se io gestisco per esempio un fondo di investimenti azionari in America non posso ovviamente investire in Italia perché c'è scritto nel mio mandato che è ovviamente legge che io posso soltanto scegliere azioni negli Stati Uniti ovviamente ci sono casi che il mandato può cambiare ovviamente non sono così comuni però ci sono casi che il mandato può cambiare però per questo cosa che succede questi dovrebbero essere approvati da parte di tenere di fondi e in tal caso il fondo offrirà la possibilità ai detentori di quote di liquidare generalmente gratuitamente la posizione qui volevo vedervi qualche logo dei gestori più famosi nel mondo ci sono BlackRock Invesco Jupiter JP Morgan eccetera che sono le case più grandi così dire adesso adesso vado un po' di spiegare i diversi tipi di fondi comuni che possono essere acquistati prima di tutto sono questi più semplici fondi azionari per esempio investire in un fondo che investe in una particola nazione Stati Uniti eccetera oppure più regionale per esempio sui mercati emergenti sui mercati asiati eccetera eccetera ci sono fonti basati sulla market cap grandi caprazioni piccola piccola computazione eccetera ci sono fonti orientati sulla crescita del capitale o sul reddito per esempio un fondo particolare che nel suo mandato ci dice il mio obiettivo è di dare dividendo di 3-4% all'anno per esempio un altro tipo di fondo sono quelli specifici nel settore per esempio un fondo che investe in azioni finanziarie delle banche eccetera o un fondo che investe nelle aziende che sono involute nelle assistenze sanitarie e così via ovviamente a parte azioni ci sono le obbligazioni ci sono fondi obbligazionari quelli che investono in obbligazioni del governo private high yield che generalmente sono quelli con più rischio ok e questi possono essere o un paese o anche un mix di paesi anche o una valuta o una mix di valute lo puoi anche diversificare con le obbligazioni ci sono questi che sono molto interessanti che si chiamano absolute return che basicamente sono un rendimento che si può dire anche un rendimento assoluto di questi fondi e l'obiettivo qui è di generare un rendimento positivo indipendente dalle condizioni del mercato basicamente questo si fa con l'uso dei derivati come futures options eccetera ci sono poi i fondi immobiliari questo basicamente investono in strumenti immobiliari diretti e in tal caso ovviamente se tu hai un fondo che investe per esempio in proprietà diretta uffici eccetera ovviamente l'acquidità sarà più bassa oppure fondi immobiliari indiretti per esempio azioni delle case immobiliari eccetera ci sono poi i fondi di materie prime direttamente in oro petrolio rame eccetera o strumenti legati alle materie prime come le azioni minerarie o le scorte di petrolio allora tu investi per esempio un'azione di un'azienda che è sul petrolio per esempio Shell BP o delle direttamente in oro per esempio Riotinto eccetera eccetera ci sono tanti questi strumenti che tu investi in azioni però sono azioni relatati a queste materie prime ci sono fondi con date e obiettivo per esempio sono strutturati per le esigenze patrimoniali ad una certa data futura per esempio il pensionamento posso dare un esempio facile per esempio io se faccio investo in questi obiettivi in questo fondo se ho 20 anni il mio portafoglio avrà 100% azioni poi man mano che passa al tempo poco a poco l'esposizione e le azioni si diminuisce però le obbligazioni e l'equiltà si incrementa perché ovviamente quando man mano che cresco con l'età ovviamente proteggerò più il mio portafoglio quando sono più giovane posso avere più rischi in questo senso ci sono fondi anche tematici basicamente sono fondi che seguono la tendenza una trend ambientale social responsabile etici eccetera ok ci sono dei fondi misti che è un fondo soltanto però può avere strategie differenti azioni differenti un mix di obbligazioni e azioni eccetera ci sono i fondi di fondi questo è basicamente non hai un manager che compra le azioni o obbligazioni però hai un manager che sceglie altri manager nel suo portafoglio ok ecco si chiama fondo dei fondi poi ci sono anche i fondi indicizzati che basicamente sono index funds in inglese questi sono passibili sono simili agli etf però sono strutturati come fondi in tal senso che i costi sono bassi però non sono scambiati in tempo reale in tra dei sono scambiati come i normali fondi ogni giorno ok adesso passiamo forse la cosa più interessante qua se parliamo di cosa considerare quando si scelgono i fondi comuni di investimento cosa dobbiamo guardare ovviamente tutto questo si fa dopo aver fatto un'analisi macroeconomica su quale paese tu investerai per esempio tu hai costruito il tuo portafoglio farai 50 obbligazioni 50 azioni un po' gli Stati Uniti un po' Europa eccetera poi quando hai individuato la tua strategia globale macro tu puoi individuare poi i fondi allora come si fa per individuare i fondi la prima cosa importante è guardare la performance questa è una cosa poco ma sicuro la performance relativa qui parliamo del performance del fondo contro quella del benchmark allora se io vado a vedere un fondo azionario italiano ovviamente vedo la performance lativa contro il Fuzzimib per dirti un esempio semplice poi ovviamente guardiamo anche la media del settore facciamo un'analisi di gruppo di riferimento per esempio vediamo il fondo che io ho scelto vis-à-vis altri fondi dello stesso settore allora facciamo un'analisi di performance fondo contro contro altri fondi nello stesso nella stessa struttura così via cosa importante è anche la classifica della quarter questa 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 è una classifica del fondo nella sua particolare gruppo di pari questa è una cosa molto importante di vedere anche quando tu fai un'analisi di gruppo di riferimento dei fondi altra cosa importante è quanto quando devi scegliere i fondi comuni di investimento tu devi guardare anche quello si chiama il risk return così dire metrica di rischio e rendimento la cosa più importante qui penso io che è una delle cose è la deviazione standard standard deviation cosa è questa basicamente questo ci va a vedere quando il rendimento di un fondo si discosta dai rendimenti attesi in base della performance storica allora per esempio se io ho un fondo che un anno ha fatto 5% di performance l'anno dopo 6 l'anno dopo 2 poi 3 poi 5 eccetera allora la media è sempre uguale così così dire la standard deviation la deviazione standard normalmente è bassa perché la performance storica è molto simile se un altro fondo per esempio un anno fa 10 poi fa 25 poi fa 10 poi fa 30 poi fa 0 eccetera per essere chiari normalmente la standard deviation la deviazione standard sarà più alta allora ovviamente c'è più rischio perché un valore più elevato di questa di questo standard deviazione standard significa che la prevedibilità dei rendimenti è benocerta allora è un fondo che è più rischiose ok una cosa importante che vediamo qui è anche volevo dire che questi dati qui normalmente si trovano sul report mensile che il fund manager pubblicano sul loro sito allora tu puoi provare questa data lì anche forse su morningstar financial times eccetera tutte le dati sono disponibili senza costi per essere chiari la prossima data che volevo parlare è la cosiddetta sharp ratio che è molto molto importante questa basicamente ci dice il rendimento in eccesso per ogni ulteriore unità di rischio ok basicamente qui se io aumento il rischio del fondo di un percento per esempio io aspetto che almeno la potenziale di guadagno sale almeno più almeno sale così così dire per esempio perché lasciare il prezzo ti dice se i rendimenti del portafoglio sono dovuti a decisioni intelligenti o al risultato di un rischio eccessivo perché dico questo tu puoi avere un fondo che in un anno ha fatto 30% e poi ti oh ok sei molto bravo però che rischi hai fatto allora questo è importante di tenere atto ok per vedere il rischio che tu stai avendo vis-à-vis il performance che stai facendo ok più alto il numero di sharp ratio meglio è è importante che questo è sempre almeno più di zero è il più alto possibile un ratio che è negativo non è buono perché significa che un investimento senza rischi ha prestazioni migliori allora se tu aumenti il rischio tu aspetti che guadagni di più se aumenti il rischio e guadagni meno ovviamente il fondo non è buono è meglio che non che non che non che non lo acquisti questa qui è la formula ritorno meno la risk free rate divido con la standard deviation del portafoglio però ovviamente potete ovviamente discutere anche dopo anche sul sito su questo anche farò un articolo per approvindare sul sharp ratio un'altra cosa cosa allora mettiamo la formula Cristian che è importante torna indietro un secondo che questo praticamente più è alto lo sharp ratio meglio è com'è la formula è ritorno aspettato quindi quello che ci attendiamo di ottenere ritorno il rischio del tasso privo di rischio quindi supponiamo se un come tasso privo di rischio si intende per esempio il T-not in America che rende in America esatto tipo il 3% se ovviamente il fondo avrà avrà un diciamo opererà prevalentemente che ne so in Europa probabilmente si utilizzerà il Bund e viceversa quindi più è alto questo valore si toglie questo 3% e si divide per la deviazione standard del portafoglio che di fatto è quella cosa che ci aveva dimostrato ci aveva mostrato prima Christian che è appunto la varianza che c'è sui rendimenti quindi se questo fondo ha una varianza molto molto alta vuol dire che andiamo a dividere per un valore alto ci chiedono di fare un esempio con i numeri ritorno aspettate il portafoglio 5% per esempio tasso risk free 3% deviazione standard che ne so 3 quindi noi facciamo 5-3 2 diviso 3 è meno di 1 quindi diciamo che non è una cosa particolarmente brillante giusto? si giustissimo è importante che questa ratio è almeno più di 0 ma per essere più importante deve essere più di 1 basicamente e poi vediamo gli esempi su questo esatto quindi secondo me sotto 1 non è particolarmente brillante come risultato e se è meno di 0 se è meno di 0 vuol dire che il nostro expected return portfolio è molto basso tipo ci aspettiamo di prendere il 2% con un tasso privo di rischio molto alto questo diciamo non è efficiente se vi ricordate bene poi non ti rubo altro tempo quando io parlavo dei pie troppo elevati sugli indici americani dicevo attenzione che comprare quei tassi che salgono queste obbligazioni che rendono il 3-4% se l'indice non rende il 3% perché i pie sono troppo alti di fatto l'indice americano è sopravvalutato e quindi poi di fatto c'è un aggiustamento e visto c'è la correlazione inversa quindi spesso quando scende il mercato azionario si riapprezza quell'obbligazionario e così via quindi questo dato dello sharp ratio mi raccomando è molto 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 importante quindi volevo farvelo vedere proprio con esempi pratici ok bene dai Cristian che abbiamo tante cose ma è molto bello dateci dei feedback mi piace questo webinar non abbiamo ancora iniziato a vedere le cose pratiche ok allora per farlo in breve adesso un'altra cosa importante che si chiama vita questa basicamente misura la volatilità rispetto al mercato anche questo è un coefficiente ok se la vita è 1 ok significa che il prezzo si muove con il mercato se la vita è meno di 1 il prezzo è meno volatile se la vita è più di 1 il prezzo è più volatile del mercato come ho detto prima questi dati normalmente si trovano sui report mensili dei fund manager nel loro sito eccetera eccetera poi ho anche su Morningstar Financial Times e tanti siti online che abbiamo un'altra cosa importante è l'alpha questa è basicamente la performance aggiustata al rischio rispetto al benchmark basicamente ci dice il contributo dei gestori alle prestazioni a causa delle selezioni dei titoli o dei tempi di mercato come il fondo sta andando vis-à-vis il benchmark in parole povere con alfa positivo posso dico una cosa al volo se un gestore di fondo sull'equity americana negli ultimi 10 anni ha fatto il 15% non è un fenomeno perché perché ha fatto male perché il 15% ha fatto molto meglio ecco questo diciamo è l'aspenso della cosa quindi è importantissimo per chi va a scegliere un fondo capire se una persona che ha investito sul mercato americano e ha fatto performance positive se effettivamente queste performance positive sarebbero state migliori acquistando che ne so le TF spider sull'SP500 che magari ha fatto una performance migliore quindi il gestore non è stato bravo e lo abbiamo pagato per niente per niente in buona sostanza per fare danni sì non è così bene allora cosa devo esprima se un alfa è positivo qui ovviamente il fondo ha fatto meglio dell'indice su una base giusta del rischio se l'alfa è negativo ovviamente il fondo come dicevamo prima non ha fatto un buon lavoro perché ha fatto peggio un'altra cosa è l'information ratio che qui ci dà la capacità del gestore del fondo per generare rendimenti in eccesso a un benchmark ovviamente è importante che l'information ratio è alta ok più alta è più il manager è coerente perché ovviamente non fa cambiamenti stratosferici nel portafoglio allora fa cambiamenti sensati nel lungo periodo l'ultima cosa che voglio parlare qui è il tracking error cosa è il tracking error è il tracciamento la definizione standard dai rendimenti rispetto al benchmark basicamente più basso il tracking error più fedelmente il fondo corrisponde all'indice cosa voglio dire qui basicamente se il fondo fa performance simile all'indice ha senso debaccare il gestore dal fondo del fondo solo per tracciare l'indice ha più senso comprare l'etf allora questo tracking error è anche un'altra cosa importante da vedere prima di comprare i fondi gestiti il tracking error deve essere alto più è alto il tracking error meglio è se il fan manager fa un'ottima prestazione sì ovviamente se il tracking error è alto però la performance non è alta non è buona allora ovviamente non sta facendo un buon lavoro però è importante che tutte queste cose che abbiamo menzionato sono almeno positivi o almeno molti di loro sono positivi per scegliere il fondo migliore così dice altre considerazioni veloci prima di comprare di fondo prima di comprare un fondo la storia del fondo quando è iniziato l'esperienza eccetera i numeri di holding nel fondo per esempio un fondo può avere 20 azioni allora è più aggressivo più volatile oppure uno fondo può avere 250 non lo so più di così e allora più difensivo il dimensione del fondo in confronto con la storia come sono andati e ovviamente per quanto il tempo il manager ha gestito il fondo il manager è appena entrato oppure ha fatto manager per 10 anni nello stesso fondo per esempio le 6 del fondo hanno una storia di 10 anni però il manager è stato cambiato un mese fa allora la performance passata non può essere attribuita a questo nuovo manager allora è meglio anche di guardare della performance sua personale con altri fondi allora fare ricerca più ambita approfondita scusate c'è importante anche vedere i ratings indipendenti come Morningstar eccetera che è sempre importante ovviamente i costi abbiamo anche menzionato prima adesso passiamo sull'ETF l'exchange di advance qui sono i gestori più importanti Venger dei SPDR i shares di BlackRock eccetera adesso parliamo dei tipi di ETF che sono applicabili in tutto il mondo ETF dei paesi regioni per esempio quello che traccia il DAX eccetera ETF con valute straniere per esempio tu vuoi esposizione a una valuta straniera senza dover completare transazioni complesse ci sono ETF settoriali per esempio quelli che investono nelle finanze la scienza sanitaria premi di primatricità tecnologia eccetera c'è anche un esempio lì per esempio Technology Select Sector SPDR che investe in ETF che traccia il settore della tecnologia americana per esempio ci sono altri ETF sulle materie prime per esempio si possono considerare ci sono anche ETF sui stili di investimento differenti per esempio quelli che investono sul valore sul crescito delle azioni su capitazione del mercato per esempio piccole azioni più grandi eccetera ci sono poi questi molto interessanti l'ETF inversi basicamente se tu vuoi fare una scommessa contro il mercato puoi anche farla con l'ETF creando una posizione short nella tua portafoglio se il Nasdaq fa meno 5% l'ETF inverso del NAVA deve fare più 5% perché funziona così ci sono l'ETF con l'EVA basicamente questo l'obiettivo è di sovra performare l'indice che traccia se l'indice sale l'1% io aspetto che l'ETF con l'EVA 2 sarebbe almeno 2% o vicevesa ci sono poi l'ETF obbligazionari questi non sono molto popolari per dire la verità il problema è che perché il tracciamento degli indici obbligazionari è più difficile dal momento che le obbligazioni sottostanti maturano nel tempo e quindi l'indice dovrà cambiare i suoi componenti molto frequentemente di un indice azionario e poi quando vedremo anche dopo l'ETF non si possono riaggiustare tutti i giorni però ci sono dei dati specifici allora in qualche modo questo può essere un problema per l'ETF spesso obbligazionari poi ci sono anche l'ETF tematici come diciamo prima se c'è una nuova trend domanda che cresce si investe là l'ultima cosa sull'ETF in questo senso altre considerazioni l'ho menzionato prima la frequenza di equilibrio si fa un ETF perché ovviamente un ETF cosa fa un ETF traccia un indice allora se per esempio un esempio pratico un paio di settimane fa per esempio un LDAC Commerce Bank è stato rimosso perché la performance è scesa e poi è stato entrato Wirecard che è un'azione di FinTech banca FinTech in Germania però l'ETF normalmente faccia questo riequilibrio una volta almeno al mese ci sono anche altri che lo fanno tra tre mesi allora ovviamente se qualcosa accade nell'indice in mezzo al mese questo non è riflessa immediatamente nell'ETF allora per esempio se tu l'indice hai per esempio Amazon che fa 5% però non è non è ancora entrato nel tuo ETF tu ovviamente puoi perdere così via quella performance in rialzo per esempio per dare una spiegazione semplice ovviamente la prestazione deve essere simile all'indice che si traccia se l'ETF non performa simile all'indice ovviamente c'è un problema il manager sta affrontando difficoltà per tracciare un indice ci sono problemi ovviamente in questo senso qui la dimensione dell'ETF è importante ovviamente l'equidità perché se l'ETF ha meno liquidità ovviamente lo spread è più ampio e allora ovviamente noi avremo più costi vis-à-vis c'è poi il trading qui ovviamente si fa il trading come sta investendo nelle azioni allora ovviamente normalmente i prezzi sono più volatili quando apre o sta per chiudere il mercato è simile quando si trada un'azione ovviamente dobbiamo considerare la size della trade in questo senso qui e questo è molto importante dobbiamo essere a conoscenza degli orari di negoziazione e dell'equidità dei componenti dell'ETF cosa significa questo? questo significa che se è un'ETF che si scambia in Europa ma investe in azioni americane i prezzi saranno più migliori quando il mercato di fondo cioè nel nostro esempio quello americano è aperto ok allora tu devi avere questa considerazione perché un'ETF può tradare nel mercato tedesco però investe in cose negli Stati Uniti allora ovviamente devi aggiustare gli orari quando tu fai il trading così dire tieni in traccia delle date di disposizione questo anche è importante ovviamente tu in questo caso c'è più molta volatilità sull'ETF perché sono come le azioni allora devi guardare questi eventi hanno più effetto nei fondi vis-à-vis i fondi per esempio ci sono i non-farm payrolls ci sono i reports delle azioni eccetera fanno più volatilità nell'ETF che ai fondi e ovviamente l'ultima cosa abbiamo anche menzionato prima ci sono ordini a limite che si può fare con l'ETF adesso l'ultima parte di questo webinar sono sugli esempi pratici che volevo mostrare forse la più importante e più interessante di questo webinar prima di tutto qui volevo confrontare i fondi con un'ETF allora cosa proviamo qui qui abbiamo quattro fondi dai maggiori fund manager gestori del mondo Robeco Fundsmith e Jupiter e abbiamo anche un'ETF allora questi cinque investimenti investono nella stessa cosa cioè il settore è lo stesso global large cap allora azioni globali di tutto il mondo ok allora la strategia deve essere simile però poi investono tutti in euro allora non c'è problema però c'è qualcosa di importante che è differente che ovviamente è questa qui che è la commissione annuale del gestione ok il management fee per esempio vediamo qui i fondi attivi ovviamente hanno un costo annuale più elevato dell'ETF che è questo qui 0.2% l'anno ovviamente anche i fondi per sé sono diversi da tra di loro per esempio questo qui fundsmith fa l'1,71% però questo qui fa l'2,72% poi vediamo perché c'è questa differenza però sono ovviamente più alti dell'ETF allora questa slide qui ci mostra la performance degli ultimi cinque anni tutti questi cinque investimenti allora come detto prima questi investono nella stessa categoria però uno di tutti ha fatto una performance brillante che è questo qui che si chiama fundsmith equity investment ok come vediamo qui del il colore arancione del grafico qui ha fatto una performance importante ok per esempio negli ultimi cinque anni ogni anno perché questo annualizzato ha fatto il 18% ok in questa tabella il secondo più performante il fondo più performante al secondo posto è questo qui il JOCM che è un cinque anni ha fatto il 12,50% allora poi al terzo posto abbiamo l'ETF ok che ha fatto 11,93 basicamente cosa volevo dire qui volevo dire che anche se investono la stessa cosa e anche se la commissione è più alta ok però questi qui specialmente questo qui ma anche l'altro hanno fatto performance molto più brillante ok poi ci sono altri due fondi qui che hanno fatto anche una performance non male perché 10% all'anno in cinque anni però non non valeva la pena di pagare commissioni così alti e non prendere l'ETF però ci sono due che hanno fatto performance più buona più buona poi un'altra cosa importante in questo grafico è questa qui la performance a breve per esempio come possiamo notare l'ultimo tre mesi è stata negativa in tutti i casi ovviamente sappiamo che in ottobre è stato molto pessimo per i mercati azionari e ovviamente tutti hanno hanno fatto non fatto così buone però cosa si può notare qui si può notare che l'ETF ha perso il 5% però ci sono questi due fondi qui specialmente questo che ha fatto negativo che però ha fatto meno peggio meno 1.55% ok poi si spiegano perché questo è successo allora un'altra cosa che abbiamo parlato prima sono ovviamente i rischi o rendimento ok in questa tabella qui si vede i dati che sono avvenibili come detto prima su financial times per esempio si può vedere qui la standard deviation che è il rischio dei rendimenti ok per esempio il più rischioso di questi è questo qui il fondo fundsmith che ha fatto la performance migliore ok però questo la statistica ti dice che è quello con più rischio perché perché forse ha meno azioni per investire in certi settori eccetera il meno rischioso è questo qui perché ha una standard deviation più bassa ok poi ci sono altre informazioni importanti c'è la sharp ratio per esempio ok che è importante perché almeno tutti hanno una sharp ratio positiva e quasi tutti è più più di uno allora in questo ambito sono importanti ok poi c'è l'alpha che abbiamo detto qui la performance del fund vis-à-vis il suo benchmark ok il fundsmith ha fatto qualcosa di importante qui più 3,81 anche questo qui però gli altri due che abbiamo visto hanno fatto hanno fatto peggio dell'etf hanno fatto un'alfa negativa allora quello ci dice ancora una volta che è meglio evitare quei due fondi lì ok la prossima cosa che volevo parlare è questa tabella qui che ancora confrontiamo allora ovviamente i fondi a gestione possono investire nei mercati globali per un settore differente per esempio questo qui che ha fatto la performance migliore può investire in assistenza sanitaria eccetera però l'altro fondo investe in cose diverse eccetera eccetera però in questa tabella io volevo più di questo volevo approfittare di parlare di questa cosa qui la liquidità nel fondo per esempio qui vediamo che questo fondo qui che ricordiamo ha fatto la performance migliore degli ultimi tre mesi ha fatto l'acquidità del 20% ok mentre gli altri hanno meno di questo perché hanno più investimenti in azioni allora che è successo molto probabilmente negli ultimi mesi questo manager qui del JOHCM quando ha visto che i mercati azionari stanno scendendo o qualcosa del genere ha detto ok perché sono un gestore di fondo posso approfittare di queste cose proteggerò il mio portfolio incrementerò la mia base di cash la mia base di liquidità per proteggere il portafoglio e questo come abbiamo visto è successo qui perché perché negli ultimi tre mesi ha fatto il meno peggio ha perso 1,55 mentre l'ETF ha perso quasi il 5,5% ovviamente in tre mesi è un valore molto molto importante ok quello è quello cosa volevo dire dei fondi ho trovato ovviamente un confronto veloce sull'ETF ovviamente abbiamo qualcosa di simile ovviamente normalmente l'ETF si usano più per trading più a breve termine mensile mensile settimanale se volete anche per come ho detto prima per aumentare l'esposizione al tuo portafoglio totale in particolare regione o settore per esempio tu vuoi inclinare il tuo portafoglio da una parte all'altra allora se io sono pro Europa voglio incrementare quella regione non vado a pagare commissione per i fondi ma semplicemente metto un ETF nel mio portafoglio totale va bene ma l'ETF si possono anche usare per il lungo termine e qui vogliamo anche spiegare l'ETF tematici questi sono molto importanti e in questo momento anche noi come investire.b stiamo lavorando su questi anche le menzioniamo nel nostro report di investimento ma ovviamente oggi volevo parlare anche di questi una cosa importante degli ETF tematici che adesso sono nei nostri radar sono degli e-sports e-sports è una competizione che è molto un mercato molto enorme specialmente negli Stati Uniti questa è una competizione usando i videogiochi o multigiocatore per esempio un esempio simile in America il League of Legends si chiama che è basicamente un confronto che si fa con i videogiochi che è visto da tutto il mondo per qualche ragione però come dicevo prima questo mercato ha un domando molto molto grande nell'America ma pian piano anche si sta crescendo in Europa e nei mercati asiatici per esempio c'è una ricerca da Goldman Sachs ci mostra che questo settore dovrebbe aumentare del 22% nei nostri anni e anche riceverà un valore di oltre un miliardo allora ovviamente crescerà ecco Christian spieghiamo bene c'è gente non so se è chiaro c'è gente che la sera si mette davanti al computer e si guarda le persone che giocano ai videogiochi questo è il tema giusto cioè è veramente il peggio del peggio l'abbruttimento della specie detto questo sei d'accordo con me o no detto questo Goldman dice che nei prossimi tre anni ci sarà un miliardo di dollari su questo settore beh no però è importante che sia che sia chiaro insomma è qualcosa di nuovo che sta arrivando esattamente vediamo qui ovviamente i ricavi da questa questo e-sports sta a mianmiano sempre aumentare ovviamente questa è un opportuno investimento per entrare in un mercato che ancora soltanto in infanzia allora tu approfettirai perché sta sta pian piano incrementare un importante anche grafico qui è ovviamente il trend in crescita qui possiamo vedere che l'anno scorso per esempio c'erano quasi più persone che hanno visto gli sports events ok più di altri eventi di sports selezionali come l'NBA per esempio o il rugby hanno visto di più quei sports via streaming immagino via adesso più di gara 7 dell'NBA guarda che è follia se ci pensi io sto diventando vecchio no anche a me non conosco come si può spendere questi soldi per vedere altre persone giocare almeno ti giochi tu ma c'è questa trend ovviamente noi vogliamo approfittare certo allora ovviamente è una domanda importante dove possiamo investire per approfittare da questi trend ovviamente questi trend sono in infanzia allora non ci sono molti strumenti disponibili al momento uno importantissimo su questo trend è questo qui Vaneg Vectors Video Gaming con il ticket di ESPO questo è stato lanciato solamente 16 ottobre di quest'anno allora ovviamente come dicevo prima la fase di investimento è nella sua infanzia basicamente qui cosa fa l'ETF traccia le prestazioni delle società convolte nel sviluppo di videojerki e-sports hardware e software collegate basicamente in questo in questo universo qui facciamo un po' di analisi basicamente questo fondo è concentrato ovviamente è un più rischioso ha scioltamente 25 azioni però ti dà esposizione elevata a società che guidano la trasformazione in questo settore basicamente se tu vuoi avere esposizione sull'e-sports questo lo devi comprare basicamente in parole povere il fondo anche in esse è diversificato perché come vediamo qui in tutto il mondo Stati Uniti Giappone Cina eccetera e anche possiamo vedere del grafico qui lezioni diversi di questo fondo ci sono Tencent Nintendo Nvidia Electronic Arts quelle che fanno FIFA per esempio Konami eccetera eccetera allora ovviamente c'è l'informazione qui allora Enrico dalla mia parte ho finito su questo su questo punto non so se volete dire qualcosa tu si guarda io mi riprendo il diciamo lo schermo di relatore ok e faccio diciamo e andiamo avanti facendo vedere tutta una serie di di altre cose perché sicuramente vi avrà incuriosito un pochettino il modo in cui Christian sceglie e seleziona i fondi Christian di fatto per investire punto biz oltre a scrivere dei bellissimi articoli tutti i giorni come quello che ha scritto oggi e come quelli che potete tranquillamente trovare sul sito appunto investire punto biz penso che vediate il mio schermo correttamente immagino di sì ecco qui potete andare nella pagina personale di Christian che ve la mando in chat quindi trovate tutti i suoi articoli Christian per investire punto biz oltre a essere l'investment advisor cura due servizi un servizio è quello della consulenza in materia di investimenti quindi una vera e propria consulenza di investimenti dove io segnalo per esempio il portfolio check up che cos'è il portfolio check up Christian vi dà un'occhiata a quello che è la vostra diciamo situazione a livello di investimenti e vi dà una suo un suo parere ovviamente questi rientrano tra i servizi di consulenza finanziaria quindi avremo bisogno di onboardarvi come clienti e questo diciamo c'è tutto un processo basta mandare la mail a info chiocciola investire punto biz e poi appunto vi fa una consulenza finanziaria personalizzata e tutta una serie di servizi ecco questi sono dei servizi che vengono erogati a persone che hanno magari un capitale da investire di almeno 50.000 euro o superiori secondo me appunto anche superiori sarebbe più adeguato e quindi questo è un servizio di consulenza finanziaria personalizzata se invece siete semplicemente curiosi o non volete fare una consulenza finanziaria personalizzata christian produce trimestralmente un report l'ultimo uscito qualche settimana fa su fondi ed etf sostanzialmente è un prodotto secondo me molto molto interessante perché l'ultimo era circa di 40 pagine io l'ho letto con attenzione c'erano anche dei diciamo delle sezioni poi se lo vorrei dire tu su come dire la situazione del debito pubblico italiano parlavamo di fondi ma anche di etf tematici per esempio sull'e-sports sulle enema domestici e altre cose anche parlavamo anche di bonds di obbligazioni dirette del debito italiano anche quale opzione scegliere perché non parla soltanto di fondi ma anche di tf tanto su tf e anche su bonds diretti allora è un report generico che contiene quasi tutto il mondo degli investimenti a lungo termine così dire quindi per per ricapitolare insomma investire.miz è un sito che si è sempre occupato e si occupa di trading e questo siamo d'accordo però andatevi a fare un giro nella sezione della consulenza in materia di investimenti che è sicuramente interessante o se siete dei curiosi e non volete iniziare con la consulenza ma volete soltanto acquistare un report potete farlo e secondo me questo è uno dei servizi più belli che abbiamo sul sito quindi vi esorto anche ad allargare i vostri orizzonti al di fuori di quello che è il trading online ma anche appunto su su etf fondi e investimenti di lungo termine l'idea è questa christian vi ha fatto vedere come lui sceglie i fondi di investimento gli etf quindi vi ha fatto vedere che potete farlo tranquillamente voi vi mettete su morningstar cercate gli sharp ratio il settore e tutto il resto e quindi potete farlo in automatico se non avete tempo o non avete voglia christian ovviamente fa questo per mestiere lo fa bene e quindi insomma è possibile acquistare questo servizio io ho finito christian se vuoi aggiungere qualcosa vi ringrazio tutti gli utenti che sono ovviamente iscritti per questo webinar e ovviamente se ci sono domande siamo felici di rispondere nella chat o anche puoi spedirci un email sul nostro email anche su tutto sugli etf cose del genere poi ovviamente approfonderemo più anche sul sito e confrontiamo lì ecco io ringrazio ancora una volta christian perché fare un webinar in italiano che non è la sua madrelingua è stato sicuramente difficile perché lui lo fa la sua lingua madre è l'inglese e quindi insomma grazie ancora christian e spero insomma di poter ricevere tante mail nei prossimi giorni appunto per riferimento a questo webinar spero vi sia piaciuto grazie a tutti allora grazie a tutti